Elsie e Roland Hedge, lei è un'illustratrice di libri, lui un architetto con sospette lesioni polmonari, io li avevo messi subito in guardia contro il dottor Eugen Steinpilz. Non vi porterà fortuna, l'uccellino me l'ha detto in modo chiarissimo. Anche tu. Questo accadeva a Brixham, South Devon, nel marzo del 1940. Penserai, suppongo, che siccome ha l'accento straniero e la barba debba essere una spia. No, quest'idea non mi è nemmeno passata per la mente, ma non starò a contraddirvi. Sì, dal giorno dopo Elsie volutamente strinse amicizia con il dottore, un assaziano che aveva il passaporto americano e si autodefiniva nature philosophe. E sia lei, sia Roland si tuffarono ben presto in Steinpilz fino al collo. Tutto cominciò quando Steinpilz l'invitò a pranzo e offrì loro carne fredda e due portate delle stesse verdure messe a confronto. Patate al forno e carote alla crema acquistate dal fruttivendolo locale e patate al forno e carote alla crema cresciute su uno strato di concime nel suo orto. La superiorità di queste ultime sulle prime per l'aspetto, per le dimensioni e soprattutto per il sapore fu una rivelazione per Elsie e Roland. E così il dottor Steinpilz convertì ben presto la coppia sola e senza figli al sistema Steinpilz di concimazione, che non differiva molto in effetti dai sistemi dei quali potete leggere nei consigli di orticoltura sul vostro quotidiano prediletto, se non per il fatto che era di gran lunga più violento. Il dottor Steinpilz aveva inventato una formula per produrre batteri feroci all'estremo, capace di trasformare una scarpa vecchia o la Bibbia di famiglia o un panciotto di lana tarlato in meraviglioso humus nero quasi mentre si stava a guardare. La formula non era in vendita però e poteva essere comunicata sotto giuramento di segretezza soltanto agli appartenenti all'associazione Eugen Steinpilz, alla quale io mi rifiutai di iscrivermi. Non sosterrò pertanto di conoscerla personalmente, ma una sera udì, inosservato, Elsie e Roland discutere per stabilire se gli influssi planetari fossero favorevoli o no. Essi accenarono inoltre a un corno d'ariete entro il quale, a quanto pareva, doveva essere cotto un miscuglio complicato di sostanze animali e vegetali triturate, tecnicamente denominato la madre. Presumo che anche un piede di toro e un pancreas di caprone facessero parte dell'intruglio, perché il signor Puck, il macellaio, mi disse in seguito di essere rimasto interdetto sentendosi chiedere da Roland dei tagli così inconsueti. Senza dubbio la poligala e la menta romana, l'orchidea e la veccia figuravano fra gli ingredienti erbosi della madre. Infatti io li riconobbi un giorno nel cestino degli ortaggi che Elsie aveva dimenticato all'ufficio postale. Gli hedge ebbero ben presto il loro primo mucchio di concime a fermentare nell'orto, grande pressa poco quanto un campo di tennis, che consisteva soprattutto in un prato ben tenuto. Il dottor Steinpilz, che sovrintendeva l'operazione, cominciò a questo punto a frequentare il cottage come l'odore delle fogne, tanto che dovetti rinunciare a far visita ai miei amici. Poi, dopo la caduta della Francia, Brixham divenne una zona di guerra dalla quale tutti erano esclusi tranne noi inglesi, i nostri alleati della Francia libera e del Belgio libero. Per conseguenza il dottor Steinpilz dovette andarsene. La qualcosa egli fece con molta malagrazia. Infatti rimase ucciso in una incursione aerea il giorno prima di quello in cui si sarebbe dovuto imbarcare per far ritorno a New York. Credo che Elsie si fosse innamorata del dottore e senza dubbio Roland aveva per lui il culto dell'eroe. Conservarono come un tesoro una raccolta con autografi di tutti i suoi libri esoterici, ognuno dei quali intitolato con il nome di una diversa pietra superpreziosa. Ed erano soliti leggerseli vicendevolmente a voce alta, a turno, durante i pasti. Inoltre, per dimostrare che quella era una filosofia pratica e non soltanto un insieme causale di bei pensieri sulla natura, cominciarono a concimare in modo più profondo e ancor più religioso di prima. Il prato era venuto benissimo naturalmente, ma essi adoperavano le zolle per coprire strati di rifiuti di cucina ai quali avevano mescolato le raschiature di un porcile abbandonato, due carriole di foglie di pioppo putride raccolte nel cortile di ricreazione, un sacco di barbabietole marce. Una volta sorpresi il bagliore del fanatismo negli occhi di essi, mentre lasciava liberi sul mucchio gli affamati batteri. E non poter reprimere un brivido di presentimento. Fin qui niente di grave, direte, forse. Ma quando i bombardamenti incominciarono sul serio e i viveri scarseggiavano al punto che rimassaie venivano multate se non consegnavano i rifiuti ai maiali nazionali, essi e Roland finirono per preoccuparmi. Avevano già rinunciato al normale impianto igienico facendo scavare una latrina nell'orto e a questo punto tentarono di persuadere i vicini che avevano il dovere di fare altrettanto, sia pure col pericolo di buscarsi un raffreddore o di trovarsi dei ragni su per il collo. Essi, inoltre, mandava Roland dietro le lente vacche di Red Devon, quando tornavano la stalla lungo il viottolo al crepuscolo, per raccoglierne i preziosi escrementi con una paletta da cucina, mentre lei si recava l'inceneritore locale con una cassa di imballaggio montata su rotelle e recuperava qualsiasi cosa di natura organica che trovasse laggiù. Gatti morti, vecchi stracci, fiori appassiti, gambi di cavoli e tutti quei rifiuti domestici che avrebbero fatto venire il vomito anche ad un maiale nazionale del tempo di guerra. Teneva in serbo, inoltre, ogni goccia dell'acqua nella quale avevano fatto il bagno per innaffiare i mucchi di concime, in quanto contenevano, diceva lei, preziosi sali animali. La dimostrazione del fatto è che un mucchio di concime buono, come ogni persona illuminata ben sa, consiste nella nascita su di esso di un certo fungo dall'aspetto rivoltante, anche se benefico. I mucchi di Elsie erano grigi di funghi e raggiungevano all'interno una temperatura così elevata che li si poteva adoperare come stufe per cucinare, la qual cosa dovette consentirle di risparmiare parecchio carbone. Io li chiamavo i mucchi di Elsie perché Elsie si considerava ormai la rappresentante del dottor Steinpilz sulla terra e il leale Roland non contestava tale pretesa. Una fase critica della faccenda cominciò durante il blitz. Si ricorderà che i londinesi avevano gremito interi treni quando erano sfollati a South Devon allo scoppio della guerra, ma Elsie e Roland, si dava il caso, erano riusciti a evitare di ospitare sfollati perché, dicevano, non avevano alcuna camera da letto in più. Una sera, però, un vecchio pensionato della marina venne a bussare alla loro porta e chiese di essere ospitato per la notte. La sua casa era bruciata a Plymouth, dove era tutto un caos, ed egli era arrivato fin lì affamato e stanco morto. Gli diedero un pasto e lo sistemarono sul divano. Ma quando Elsie discese la mattina dopo per rivoltare con il forcone i mucchi di concime, lo trovò morto per una crisi cardiaca. Elsie e Roland interruppero il lungo silenzio venendo alquanto terrorizzati a chiedere il mio consiglio. Sai, sarebbe un errore disturbare la polizia per questo caso. La polizia è impegnatissima in questo periodo. E quel poveraccio aveva detto che era solo al mondo. Qualora vogliate sapere se vi denuncerò le autorità civili, la risposta è no. Nell'ora in cui è avvenuto il fatto io non curiosavo e, in fin dei conti, quanto tu mi riferisci soltanto non sentito dire. Avevano letto il servizio funebre accanto alla salma che, una volta liberata dalla cinta dei calzoni, dai bottoni delle mutande, da un astuccio metallico per gli occhiali e da un mazzo di chiavi, tutti oggetti non degradabili, era stata deposta con rispetto dentro al nuovo mucchio di concime, che oltre ad essa, soggiunse Roland, conteneva una carrettata di rifiuti ricavata dall'inceneritore e sterco di vacca recuperato. La guerra continuò. I hedge non soltanto tramutarono l'intero orto in file serrate di cumuli eretti alle memorie di Eugensteinpilz, ma si recavano regolarmente a spazzare via i rifiuti al mercato del pesce e a ogni primavera El si soleva scegliere grandi mazzi di primule e gettarli subito sul concime, senza neppure un'ultima malinconica fiutatina. Sembrava infatti che le primule vergini fossero particolarmente appetite da quei feroci batteri. Un mattino un poliziotto si ricò degli hedge con una citazione e si diede il caso che io scorcessi Roland sbirciare ansiosamente dalla finestra della camera da letto e poi subito tirarsi indietro. Il poliziotto suonò il campanello, bussò, aspettò, poi provò dalla porta di servizio e infine se ne andò. La citazione concerneva una violazione sulle norme dell'oscuramento ma a quanto pare gli hedge non lo sapevano. La mattina dopo il poliziotto tornò e poiché nessuno gli aprì forzò la serratura. Gli hedge furono trovati morti sul letto. Avevano ingerito una dose eccessiva di sonniferi. Un biglietto lasciato sulla coperta diceva semplicemente. Ponete per favore i nostri cadaveri sul mucchio di concime più vicino al porcine. Sono oggrediti fiori. Spargerne parti sulle salme mescolate con un po' di rifiuti di cucina e coprire poi leggermente con terra. Il nuovo inquilino decise di coltivare patate e di lavorare l'orto per contribuire alla vittoria. Leggiò un carro e cominciò a gettare il concime nel fiume d'art perché diceva non gli piaceva l'aspetto di quei funghi. 15 schele triumani mirabilmente puliti che George Erx disse per lì nel corso della sua fatica alla fine della guerra aspettavano ancora di essere riconosciuti. Abbiamo trasmesso Dalla terra alla terra di Robert Graves traduzione di Bruno Oddera con Isabella Delbianco e Paolo Fiorino.